Edizione straordinaria, cari cittadini dell'impero, oggi è un giorno carico di buone notizie. La produzione industriale è ai massimi storici, ma tutto bene. La disoccupazione è stata abolita per decreto legge, ma tutto bene. I robo-serbi delle colonie lavoreranno anche lì domenica, ma tutto bene. Le spiagge sono ancora biene, l'estate non vuole andare via, ma tutto bene. I sogni non svaniscono finché le persone non li abbandonano. Grazie.